È stato molto importante perché dopo quattro sconfitte non è mai facile, poi anche contro il Parma che sicuramente molti pensavano che fosse una partita semplice ma poteva avere mille insidi, invece l'abbiamo affrontata nel modo giusto. Sì, abbiamo avuto un inizio di campionato sicuramente difficile, viste le squadre che abbiamo affrontato, anche il loro stato di forma attuale. Sicuramente anche in Serie A non ci sono partite facili, quindi a prescindere dalle squadre che affronteremo saranno tutte partite abbastanza difficili. È una buona squadra sicuramente che si conosce ormai da anni, è una squadra solida, ben organizzata, sicuramente una delle squadre più in forma, sarà difficile sicuramente affrontarli però abbiamo studiato bene in settimana tutti i meccanismi, sia nostri che loro, quindi siamo pronti. Ci sono giocatori molto interessanti che si stanno mettendo in mostra anche in Serie A, un mister bravo che li fa giocare bene, quindi sarà sicuramente una bella partita tra due squadre che hanno voglia di giocare al calcio. In teoria mancano questi otto punti, speriamo di farli il più presto possibile, così almeno poi possiamo rilassarci e affrontare le altre partite con la giusta serenità. Sicuramente la mia migliore stagione sia per rendimento che per supporto alla squadra sia in fase offensiva che in fase difensiva. Grazie. Grazie.